L'obiettivo di Sana Sanità, perché il titolo dice proprio un'attenzione anche al mondo della sanità, non solo alle cure, ma anche proprio al mondo sanitario. Vedi, le persone si devono interessare della propria sanità, perché è il bene più grande che abbiamo. Il servizio è un servizio universale, universalistico, gratuito. La Costituzione dice che è un servizio che deve essere garantito a tutti, di qualsiasi razza siano, qualsiasi persona che risiede nel territorio italiano deve avere accesso alle cure. E piano piano questo servizio sanitario nazionale c'è pericolo che vada sparendo, perché c'è l'aggressione del privato, ci sono le fameliche assicurazioni che spingono e il miraggio è arrivare alla sanità privata come c'è negli Stati Uniti, che sarebbe una sciagura. Ora, io spero che i nostri governanti abbiano la lungimiranza e che non cedano più di tanto e che continuino a mantenere in funzione, in modo funzionale, scusa la parola, perché, come ti dicevo, è un interesse di tutti.